Paolo Zambolin, secondo allenatore del Conadre Gemiglia. Paolo, ripercorriamo questi tre quarti di campionato dall'inizio. Durante il precampionato siete partiti con tanti problemi che vi hanno portato a delle sconfitte e degli infortuni. Cosa non funzionava? Ma gli infortuni purtroppo noi non ci potevamo fare assolutamente niente, ma ormai, come è stato detto, non ci facciamo più alibi, ormai guardare quello che è successo rischia solamente di farci sbattere perché non riusciamo a vedere davanti. Non funzionava il gioco, non funzionavano alcune cose che è normale che non funzionino quando perdi tante partite di fila, ma a prescindere dagli infortuni non era quello che ci ha dato fastidio, l'infortunio o meno, sono state le brutte prestazioni. Piano piano le cose sono migliorate, niente più infortuni e una bella serie di vettori. Qual è stata la chiave di svolta? La chiave di svolta è stata comunque il fatto che erano orati un punto che non potevamo più scendere, più di così. Quindi abbiamo reagito tutti, abbiamo dato quello che dovevamo dare anche prima, probabilmente. Probabilmente è stato il fatto di avere veramente le spalle al muro che ci ha fatto combattere. Sette vittorie nell'ultime otto gare, è una rimonta da film, playoff agguantati, è una cosa senza limiti? I limiti, diceva un grandissimo dello sport estremo, stanno solamente nella nostra testa. Limiti in questo campionato non ci sono perché abbiamo visto che Vibo Valencia prima è andato a perdere a Brescia ultima. Adesso abbiamo in questo mese di febbraio tre partite che potranno dire molto su dove potremo arrivare. I limiti noi non ci li poniamo, noi scendiamo in campo come se fosse una finale, poi dopo le finali alcune si possono vincere, alcune si possono perdere. L'importante è che una sconfitta eventuale che arriverà prima o poi, perché è anche impensabile di vincere le prossime atti, poi viene o tanto bene. L'importante è comunque ripartire dall'eventuale sconfitta che dovesse mai arrivare e vedere cosa fare per migliorare e poi vincere le altre. Quindi eventuale sconfitta e ripartire sempre a testa alta? Assolutamente, perché guardare dietro non si può cambiare, non abbiamo la macchina del passato, non possiamo tornare indietro. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è migliorare e giocare ogni partita come se fosse l'ultima.